Signora, non è giusto, perché altrimenti non hanno comprato i libri. Signora, ma non è giusto nei confronti di chi l'ha comprato dietro, ma lei è una maleducata e basta di farla così. No, ma che sono loro che ti fanno andare avanti. Signora, lei è una maleducata e buona. Ah no, le bare che sono scenate da fare questa. Signore, vai e non me lo dice, vai e non me lo dice, vai e non me lo dice. Signora! Ringrazio i giorni, ragazzi, signora. No, 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 no!